Oggi vi propongo un libro che ammetto sia per presunzione che per prevenzione non pensavo fosse assolutamente così interessante. Il libro è questo, Carbon Almanac, Guida al Cambiamento Climatico. Presunzione perché credevo di sapere un sacco di cose su questo tema e in realtà nel libro ne ho trovate molte, ma molte, ma molte di più. E prevenzione perché il libro è stato voluto da Seth Godin, che è il re del marketing. E già qui dice, oddio, il marketing per me è sempre stato un po' associato a cose non del tutto vere. Invece questo libro è estremamente interessante perché tratta l'argomento cambiamento climatico da tutti gli aspetti e soprattutto non da nulla per scontato. Non ci sono delle semplificazioni, non ci sono delle scelte facili, sicure, che è esattamente lo stesso modo in cui ragiono io. Ok, questi sono i dati, ci sono anche altri dati però che dicono l'esatto opposto, quindi cerchiamo di tenere insieme tutti i pezzi. Una cosa che mi piace tantissimo di questo libro è che, in quanto almanacco, contiene il tema cambiamento climatico da tantissimi punti di vista. Vedete, è particolarmente grosso. È fondamentale per chi come me crea contenuti online perché ti dà un sacco di idee e anche soltanto di creazione di contenuti. Però credo che sia fondamentale anche per chi fa formazione, insegnanti in primis, perché ti dà un sacco di strumenti. Tutti i temi raccolti in questo almanacco non sono approfonditi, ma non è questo l'obiettivo del libro. Ed è, secondo me, anche la cosa molto bella di questo libro perché ti permette di avere una serie di spunti che poi puoi approfondire in un secondo momento. Un'altra cosa molto importante di questo libro è che i vari temi sono sempre associati ad un numerino che va inserito alla fine di un link che ti dà tutte le fonti che sono state utilizzate per creare quel contenuto. E questo ti porta ad avere ancora molte più possibilità di approfondimento seguendo poi le varie fonti. Quindi il carbon almanac credo che sia veramente fondamentale, anche solo se un normalissimo lettore è curioso di sapere tutto ciò che gira intorno all'enorme argomento del cambiamento climatico. Però sicuramente è estremamente importante per gli insegnanti o per persone che fanno divulgazione ambientale.